Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua su Bassimulator21, Next Top, Next Gen, Next Tutto, quello che volete e benvenuti in un nuovo video del mio canale, come sempre per iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per non perdervi tutti i miei futuri videos allora iniziamo subito a bomba, nello scorso episodio abbiamo fatto la Tram Heritage Line in Lego, ma cacchio era, dovevamo fare tre percorsi con una livrea particolare mentre in questo video dovremo, praticamente in questa missione dovremmo creare praticamente, questa missione dice Vecchi amici, qual è la fermata del tram del signor Steve Senior se mostri le tue abilità da autista allora ottieni tre stipendi percorrendo una linea del tram che collega il quartiere Oakwood e Sankis ottiene un punteggio di soddisfazione 4 stelle che percorrono una linea del tram che collega i quartieri City Hall, North e Oakwood ok? allora io ho creato già la linea 5 perché così, per farvela più veloce che praticamente non è nient'altro che ve la faccio vedere City Hall, North, Marina, Second Avenue è quella lì Slot Boulevard è bilanciata quindi va benissimo e a 4 fermate quindi in teoria dovremmo farci anche la soddisfazione a 4 stelle io ho già preso un tram il... come si dice... il porco schifo ehm... ma... oh... ma... ora di punta, soddisfazione, me ne frega i D, ok... vabbè, un po' le ha messe al contrario vabbè... ehm... per direzione... ok, eccolo qua linea tramviaria 5 questa qua, allora in teoria dalle 14 alle 19 ho già segnato due tram la 14 alle 19 è molto trafficata quindi potremmo avere molto più successo di avere molte più stelle quindi selezioniamo la linea linea tramviaria 5 guida ora ci prendiamo il nostro ultimo bello questo qua che è questo che ho già qua guardate come l'ho fatto l'ho fatto praticamente con questa nuova livrea lì De Calcomania, ma cacchio la chiamate che c'è il porto lì e poi una mini pubblicità che serve quel pallino davanti lì eh, faremo il stazionamento che cacchio, ma chi te l'hai levato allora, ah sì cacchio le luci eh, aspetta una roba fermateli le luci, le luci non mi piacciono queste e non mi piacciono queste perfetto possiamo andare allora ovviamente con LT eh, scusate no con la levetta sinistra con l'analogico vabbè, quello che volete la levetta di sinistra si comandano le cose lì i binari sto andando dritto sì, devo andare a sinistra perfetta eh, io non devo fermarmi qua quindi va benissimo allora io devo andare praticamente a sinistra o devo fare 4 stelle quindi non devo fare cavolate eccolo qua alla prossima a destra quindi io già predispongo starola questo qua pure lui va a destra ho paura che 17 eccolo lì uh, è andato via dritto è girato cioè perfetto eh, pedoni pedoni fermati sono qui io sono qui io perfetto perfetto arrivo tranquilli apriamo fermata pronto a miglioramento molto bene biglietti biglietti porco schifo ma iniziamo bene chi è? ma l'immortacci tua non usa il sedile dice ah pure senza biglietto bravo e tu ce l'hai il biglietto? ok perfetto ok vediamo se fermate io devo andare a sinistra io ok mi ha dato ok la stazione della polizia ok dobbiamo andare a destra qua vai grazie prima io please dai niente non mi da eh vabbè metto la freccia per niente se io devo fermarmi qua ok fino adesso non ho fatto cioè sto zitto che è meglio fino adesso sto zitto dai allora ordinario corsa singola uno dieci euro allora due quattro sei otto andiamo a tre quattro due quattro sei perfetto siamo a partire sinistra dobbiamo andare sinistra ma sinistra dove ah nel ponte mio ed è pure verde che è successo ma che la domanda nella linea è stata chi cacchio l'ha fatta la domanda nella linea portacci sua ma che domanda ma non l'ha fatta mamma mia vabbè vedete che non va un cacchio che bello però eh eh raga abbiamo il ponte del tram vedete non potete mai prendere una multa per il velox perché va non va a 50 quindi si io freno un po' così e qua fermate dritto per dritto sempre ok dritto per dritto adesso dovrò andare a destra 18 allora in teoria qua si questo va a sinistra c'è lo scambio vediamo c'è lo scambio fermatele ok devo andare dritto in fondo a destra vabbè a sinistra non si può andare pure qui ok arrivati in perfetto orario beh 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 siamo a livello 63 raga biglietto studente eccolo qua giornaliero number one 5 euro 40 allora 60 80 fa 6 2 2 4 fa 10 basta dritto dritto per dritto next stop allora siamo giusti eh pure qui ok che dovrei frenare un po' a 15 sinistra io metto le frecce così mi dà un botto di bonus ma cacchio me ne frega l'ultima fermata perfetto è che quando vi appare quel bug lì una linea sovraffollata io non so come cacchio fa io ma qua non c'ero già passato no piano aspetto ok ha preso un botto di di bonus diciamo last stop qua spawnano anche i bash tutto ok vediamo se me la dà ok 1 di 3 perfetto 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 io mo' però allora come potrei fare per baggarlo potrei fare così siccome non sono su una linea potrei fare seleziona linea linea 5 guida ora prendere prendere l'ultimo bus sì l'ultimo tram non puoi scegliere questa via è già in giro per la città puoi identificare comportare ma va ma va allora è penultimo non è in giro eccolo qua ecco è perfetto mamma mia pure se fa la stessa mia linea l'immortaci sua ma ok biglietto 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 anziani corsa singola 1 1 euro 80 20 allora se facciamo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 anziani anziani corsa singola 1 avanti tutta 5 euro 1 80 allora facciamo 2 3 e 5 beh ragazzi così fate un po' di matematica no allora io devo andare a sinistra lì perfetto uh è andato è andato dritto lui benissimo raga fermatele no di qua devo andare io ok ah mannaggia è lì davanti eh già lo vedo nel radar qua lui sta alla fermata però diciamo che no è un bus perfetto è un bus è un bus è un cacchio è e sta partendo pure sta fermando uh tutto ok tutto ok nessun problema sono preciso fermo vai ballo fermata pronto a miglioramento a miglioramento e miglioriamo e miglioriamo bene neanche un biglietto perfetto avanti tutta sì si l'ha preso non so come cacchio funziona ma ogni tanto bisogna spammare di freccia a sinistra fermeli che devo andare sul ponte io non rompetemi le scatole ok e siamo al secondo quindi la prossima ma che cacchio di problemi c'era che mi diceva vabbè dai 33 vabbè freniamo un po' ma adesso non me ne frega di fare 5 stelle tanto basta che mi faccio le tre tratte io di quelle belle andiamo a destra andiamo sempre sotto i 20 siete tranquilli eccolo lì ma porco ma se l'ho detto vabbè dai accelerate cioè voi accelerate che accelero anch'io grazie sempre dritto perfetto adesso devo andare sicuramente a destra a 16 gli abbasta come velocità per fare ste curve ok a 16 si a 19 gli va bene si ma non a 20 allora vabbè condeno l'oro condeno i dotti sinistra questo va dritto perfetto io devo andare a sinistra ah vabbè destra e sinistra vabbè sinistra 21 20 19 arresto perfetto in orario preciso prepariamoci per i biglietti perché sarà eccolo qua sarà allora anziani giornaliero 1 5 euro 40 devo arrivare a 10 allora 5 euro 40 60 80 6 8 10 anziani corsa singola 1 stamba 1 euro 80 2 4 6 8 10 12 16 18 e 20 20 ho detto allora ordinario corsa singola di mortacci tua ordinario corsa singola e 2 20 40 60 80 e fa 3 e 2 5 abbiamo l'ultima fermata oh e vai dritto vedete io ho spammato di ma non la prende come non la prende come freccia quando si è lontana fermata non so come cacchio l'hanno fata 18 18 mi fa fare la curva si sinistra vabbè questa è sinistra sinistra che però ci metto la freccia ok e poi dovrò andare a sinistra solo a sinistra e questa curva è piccola perfetto mamma mia è rotto il cacchio fermate 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 perfetto fermate ok fermata pronta miglioramento altri soldi che abbiamo praticamente allora che arrivano perfetto abbiamo fatto ma come era già la terza eh era già la terza ma non era la seconda ottieni tre stipendi mentre guidi tram su una linea che colleghi i quartieri west oakwood e island park ma questo se lo faremo nel prossimo episodio comunque mi sembra strano devo fare ancora una tratta io raga erano tre stipendi no due io sono sicuro vabbè voi siete più attenti di me se avete visto il video fino a qua scrivete nei commenti tre tratte gg così io capirò che l'avete visto fino a qua quando vedo un commento strano dico eh grandissimi questo è un cuoricino molto speciale ragazzi io vi saluto come sempre per andare via vi invito a iscrivervi commentare e share un bel mi piace condividere i video nei vostri social e noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi un video live eccetera eccetera ciao mi dici ciao 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 Grazie a tutti.